Interlocutorio, ma comunque positivo l'esito dell'incontro di questa mattina tra i sindacati e l'azienda sulla vertenza Varsila. Da fonti sindacali ci sarebbero le condizioni per la proroga a sei mesi, anziché a tre, come inizialmente avanzato dai finlandesi, del contratto di solidarietà per i lavoratori, quello attuale infatti in scadenza fra pochi giorni, alla fine dell'anno. Lo hanno reso noto le segreterie di FIM, FIOM e WILM al termine della riunione. In una nota si legge che sono stati fatti passi in avanti su un'ipotesi di intesa a tutela del reddito dei lavoratori. Nei prossimi giorni proseguirà il confronto in ambito istituzionale per definire il tutto. I rappresentanti sindacali sono già stati convocati per domani pomeriggio alle 15 in un incontro con il Ministero delle Imprese che si svolgerà nella modalità della videoconferenza. Uno spiraglio dunque nella trattativa in corso per la proroga degli ammortizzatori sociali, ma rimane ancora nell'incertezza il percorso che dovrebbe portare alla stesura di un accordo di programma mirato alla reindustrializzazione dello stabilimento Varsila di Bagnoli della Rosandra. A luglio 22 la multinazionale finlandese aveva annunciato lo stop della produzione del sito triestino. A oggi sono circa 300 i posti di lavoro a rischio, senza contare tutto l'indotto, che sta dando segnali di profonda crisi con chiusure e licenziamenti nel comparto.